La Capitaneria di Porto di Giulianova ha emanato un'ordinanza di interdizione nelle aree del raggio di 35 metri dal basamento di tutte le 14 torri faro presenti all'interno dell'area portuale. Il provvedimento a scopo cautelativo è stato reso necessario a causa di una verifica sullo stato di manutenzione delle torri che ha fatto emergere rilevanti criticità. Il provvedimento è temporaneo in attesa della messa in sicurezza delle torri. L'ordinanza è stata emanata dal comandante dell'ufficio circondariale marittimo tenente di Vascello, Daniela Spera. Sicuramente la situazione non è semplice da gestire perché comprendiamo e conosciamo bene il porto di Giulianova. È un porto molto vivo dove ci sono diverse attività commerciali e inevitabilmente d'estate è un porto che si popola anche di turisti. Il provvedimento, come ho detto già con dei comunicati stampa, è stato assolutamente necessario e cautelativo. Ovviamente non c'è un pericolo imminente ma dobbiamo lavorare a stretto contatto come stiamo facendo. Abbiamo chiesto una riunione alla regione insieme all'ente porto e a giorni avverrà. Ci siamo già riuniti anche col comune per cercare di capire quelle che sono le azioni da porre in essere. Ovviamente quello che io ho richiesto nell'immediatezza è la messa in sicurezza delle torri faro. Quindi nell'emore di capire se vanno sostituite, migliorate, sicuramente la messa in sicurezza è la cosa principale per poter transitare in maniera serena e tranquilla nel porto. Io mi auguro che nel giro di poche settimane riusciamo quantomeno ad avere un porto sicuro, illuminato e poi ovviamente i tempi per le sostituzioni, vi rendete conto che torri faro anche tante, sono 14 in totale e i lavori sicuramente non saranno così veloci se, ripeto, si prova che vanno sostituite perché al momento siamo solo in una fase di indagine.